La nostra paura più profonda non è quella d'essere inadeguati. La nostra paura più profonda è d'essere potenti oltre misura. È la nostra luce, non le tenebre, che più di tutto ci spaventa. Chiediamo a noi stessi, chi sono io per essere brillante, formidabile, pieno di talento e risorse? Ma di fatto, chi siamo noi per non esserlo? Siamo figli e figlie di Dio. Il nostro giocare al ribasso non serve al mondo. Non c'è niente d'illuminato nel ridurre noi stessi per far sì che gli altri non si sentano insicuri intorno a noi. Siamo nati per rendere manifesta la gloria di Dio che è dentro di noi. Non è che sia solo in alcuni di noi, è in ognuno di noi. Quando permettiamo alla nostra luce propria di risplendere inconsciamente Nel liberarci dalle paure, la nostra presenza automaticamente libera gli altri.